Ciao, in questo videoblog studiamo la lingua russa. Continuo a registrare i video da un luogo diverso rispetto a tutte le altre volte. Siccome vogliamo imparare a parlare il russo fluentemente e senza errori facciamo degli esercizi mirati all'apprendimento delle desinenze del passato. Nel mio video precedente hai sentito come un russo ti potrebbe raccontare quello che ha fatto o faceva in passato molto tempo fa oppure ieri oppure qualche minuto fa. Per tutti questi casi vale la stessa regola di prendere la base del verbo cioè l'infinito senza le ultime due lettere e aggiungerci una delle desinenze l, la, lo oppure li. Dipende se al singolare o al plurale e nel caso del singolare dipende dal genere del soggetto maschile o femminile o neutro. Facciamo subito il primo esercizio. Immagina che un russo o una russa ti parla. Cerca di capire cosa ti dice. Se riesci traduci la frase in italiano non ti preoccupare se delle volte le nostre traduzioni non corrisponderanno. La precisione verrà con la pratica di ascolto. Via. io conoscevo la storia detto da un uomo o un ragazzo. io conoscevo la storia di ascolto. Lei faceva colazione aliotto. lei faceva colazione aliotto. Вы делali test? avete fatto il test? radio io la radio la radio io previsto io guliare la piazza io ho passeggiato o passeggiavo sulla spiaggia detto da una donna o una ragazza. Lui ha pranzato o pranzava al ristorante. Bene! Nel prossimo esercizio, che è anche un gioco, proverai a rispondere a delle domande così ti alleni nell'ascolto, la lettura in cirillico e soprattutto nella conversazione. Ti aiuteranno le due parole nuove ieri, fcerà, fcerà e tempo fa o una volta inteso per un periodo in passato, ranche, ranche. Sono gli avverbi indicatori, cosa che ti avevo accennato nel video precedente. Fcerà, ranche. Come dici ieri? Fcerà. E come dici tempo fa? Ranche. Via! Včera. Včera дети игрali v fútbol? Včera дети игрali v fútbol? Vi rispondi. Včera Domenico erano v fútbol? Včera ni satisfied Soli c'era politica o ili geografia Italia? Včera. Včera o gieografie Italii. Včera dvushka смотрela ruski ili italijanski film. Včera dvushka dvushka смотрela italijanski film. Včera 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 раньше радио не работало вчера женщина помнила о кофе да вчера женщина помнила о кофе hai appena fatto un ottimo lavoro ты толкашто отлична поработал или поработала nel prossimo video del livello base trovi altra pratica di conversazione e di traduzione dall'italiano al russo più ti eserciti e più sei sicuro o sicura quando racconti delle cose già accadute in lingua russa ciao пока c'è сейчас такое было ciao 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 ciao